Si avvicina all'appuntamento con Water Ideas, ne parliamo con l'organizzatore, l'ideatore, gestore Marco Fantozzi, uno sguardo su quello che sarà questa importante conferenza. L'IWA, l'International Water Association, ci sta aiutando a organizzare questa conferenza in Italia, dedicata a tutte le tecnologie intelligenti per la gestione delle reti idriche. L'abbiamo voluta chiamare Water Ideas, quindi tutte le idee, tutte le tecnologie che possono aiutare una gestione intelligente. Questo può fare veramente la differenza nell'efficienza della gestione del futuro in Italia. Arriveranno relatori da tutta Europa, anche da fuori Europa, arriveranno rappresentanti della Commissione Europea e i progetti più innovativi di ICT applicato alle Smart Water Network. Quindi invitiamo veramente tutti i gestori italiani a venire, a condividere le loro esperienze, a imparare da queste esperienze internazionali e a collaborare veramente con tutti perché vogliamo che le aziende italiane e i gestori italiani diventino veramente efficienti al pari dei loro colleghi del Nord Europa. Vogliamo dare le date, la location e anche il sito per amore di completezza. Perfetto, grazie. L'evento si terrà a Bologna nell'ambito della fiera H2O e voglio ringraziare H2O per l'ospitalità che ci concede. La data è dal 22 al 24 di ottobre. Trovate tutte le informazioni sul sito waterideas2014.com. Vi aspettiamo. Grazie.